Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura la cronaca, un brutto incidente per Andrea Dovizioso su una pista da motocross nel retino. Paura per Andrea Dovizioso, l'ex campione del mondo di moto, ha avuto un incidente questa mattina sulle piste da motocross che vedete alle mie spalle. Ci troviamo a Terra Nuova, bracciolini. L'ex campione del mondo 125 MotoGP si stava allenando in una sessione privata nell'impianto in località Il Tasso quando è caduto ed è stato sbalzato a terra. È successo poco dopo gli unici, nell'impatto ha riportato un trauma cranico, è stato trasportato all'ospedale Fiorentino di Careggi con l'elisocorso in codice rosso ma non è in pericolo di vita. Dovizioso, dopo aver concluso la sua carriera agonistica, ha iniziato a dedicarsi al motocross. Questa mattina si trovava nella pista valdarnese del Tasso per un allenamento in compagnia del collega ed amico Alessio Chico Chiodi, campione del mondo di motocross e residente proprio in Valdarno. L'ex pilota di MotoGP frequenta spesso la pista dove questa mattina è caduto. Ad incoraggiare il campione adesso anche il presidente della regione Eugenio Gianni. Ringrazio tutti i soccorritori intervenuti e i nostri sanitari che lo hanno attualmente in cura. Forza Dovi ha scritto sul suo profilo Facebook. Un altro incidente stradale invece oggi pomeriggio ad Arezzo in via Fiorentina all'incrocio con via Spallanzani. Uno scontro tra un'auto ed uno scooter. Sul posto sono intervenuti i sanitari dell'emergenza urgenza che hanno soccorso la persona sbalzata di sella che è stata poi trasferita all'ospedale San Donato in codice giallo. In Valdarno invece un furto dal misero bottino circa 250 euro ma è ben più corposo il conto dei danni provocato alla struttura che supera invece i 2.000 euro. È successo nella notte tra domenica e lunedì al caffè 900 storico esercizio di Montevarchi. Secondo quanto si apprende alcuni ignoti sarebbero riusciti ad introdursi all'interno dell'attività tagliando prima il latero del gazebo che si trova su Viale Diaz e poi sfondando la porta d'ingresso in vetro con una manza. E adesso la cronaca giudiziaria. Il presidente della Camera di Commercio di Arezzo e Siena Massimo Guasconi è stato rinviato a giudizio. Nell'ambito della max inchiesta Aiden Partner condotta dalla procura di Siena. L'accusa è quella di corruzione, un reato per il quale Guasconi attraverso i propri legali si è sempre detto estraneo. Sono in tutto 10 le persone rinviate a giudizio. La prima udienza del processo è stata fissata per il 19 settembre. L'inchiesta era partita 10 anni fa a finire sotto la lente di ingrandimento della magistratura. Alcune operazioni che avrebbero riguardato l'acquisto di palazzi immobili, tra questi anche il Caffè dei Costanti ad Arezzo, locale poi passato in proprietà a Patrizio Bertelli. In Valtiberina invece i cittadini chiedono un consiglio comunale aperto. Si tratta dei componenti del Comitato No Antenna D'Agnari pronto ad una manifestazione pacifica sotto Palazzo Pretorio. Tra i cittadini c'è una forte preoccupazione, fa sapere il Comitato, per la totale mancanza di informazione da parte dell'amministrazione comunale e richiede sempre con maggior forza che il Sindaco convocchi urgentemente un consiglio comunale aperto per affrontare a viso aperto la cittadinanza, così come molti altri primi cittadini hanno fatto in altri comuni d'Italia. Se così non fosse, il Comitato si dice pronto all'organizzazione di una manifestazione di protesta davanti a Palazzo Pretorio. In città d'Arezzo invece nella giornata di oggi sono stati installati due nuovi defibrillatori. Arezzo è già la città italiana più cardioprotetta d'Italia, ma adesso i defibrillatori stanno arrivando anche nei condomini. Due, quelli acquistati dai condomini e installati nella zona di via Cimabù e via Raffaello Sanzio. Quattro condomini, 40 famiglie e 20 persone già formate, quindi già di per sé è un bacino abbastanza significativo ma è ancora più significativo perché è un luogo molto centrale della città, quindi potrebbe averne bisogno anche una persona che girella per qui per ragioni di lavoro, di semplice bisogno di girare per la città e può averne necessità, quindi è un fatto importante, questa è la città più cardioprotetta d'Italia ma il passo ulteriore è che oltre ad avere più strumenti di supporto è anche quella che ha più cittadini formati perché poi lo strumento è basilare ma saperlo utilizzare è il passaggio immediatamente successivo quindi ci sono due valori, lo strumento è una cittadinanza attiva, civica che permette l'utilizzo attraverso un'alleanza forte tra cittadini, istituzioni, condomini, responsabili dei condomini, pubbliche assistenze l'ordine degli infermieri, l'asli, insomma tutto questo fa sì che questa sia una città che ha trovato una risposta una domanda che è una domanda di vita laddove ce ne sia necessità Quello che è bello è che sono praticamente i più sono i giovani poi c'è qualcuno che l'ha fatto tempo fa che avrà bisogno di essere rifatto qualcosa comunque si cerca di fare del meglio Un'altra donazione stavolta da parte di un'azienda ha consentito un'altra installazione nella zona di Lepogiola alle porte della città e il prossimo 22 aprile sarà l'ordine delle professioni infermieristiche ad organizzare un corso BLSD per i cittadini coinvolti Un ringraziamento va all'azienda Tecno Sicurezza che ha donato questo difibrillatore e l'amministrazione dimostra come sempre grande attenzione sia al territorio che alle frazioni stesse Sì è un percorso che stiamo portando avanti su tutto il territorio comunale non riguarda solo il centro quindi solo la città ma anche le frazioni oggi è una risposta importante che diamo in una zona che grazie al lavoro dei consiglieri grazie alle aziende che ci ha donato i defibrillatori che comunque dà una risposta a un territorio che è vissuto che ha una rappresentanza che per noi è importante che sia anche tutelato Sì noi diciamo che ci siamo messi a disposizione dopo la chiamata dell'amministrazione affinché anche la frazione delle Poggiola possa essere cardioprotetta ma con circa 20 cittadini di questa frazione formati al corso di formazione BLSD che verrà fatto in collaborazione sia con l'ordine professionale delle professioni femministe di cui rappresento sia al centro di formazione etrusco il 22 di questo mese appunto alle ore 14 al circolino delle Poggiola Il senso di Mattia è il nome dell'iniziativa promossa per giovedì 11 aprile alle 15.30 all'interno dell'auditorium dell'ospedale San Donato di Arezzo L'evento è dedicato alla sindrome del bambino scosso Si tratta di una grave forma di maltrattamento infantile che può portare a danni celebrari irreversibili e persino alla morte del bambino è causata da forti e ripetute scosse o colpi alla testa di uno nato o di un bambino piccolo un convegno che è aperto a tutta la cittadinanza E ancora salute ma andiamo in Valdarno a Terra Nuova Bracciolini dove questa mattina è stato inaugurato il nuovo padiglione CRT Ristrutturato l'ex padiglione conosciuto come Forlanini per il potenziamento dei servizi sanitari in Valdarno è stato infatti acquistato dalla clinica riabilitazione toscana dal comune di Terra Nuova Bracciolini e dopo sei mesi di lavori oggi il taglio del nastro CRT è una sperimentazione gestionale importante che ha dato degli importanti risultati una partnership pubblico privata ovviamente sotto il controllo pubblico che ha dato dei risultati importanti è un esempio di come si deve guardare a nuovi modelli La struttura è stata ampliata a 270 metri quadrati e sarà destinata a vari servizi sanitari dalla neuro-riabilitazione alla riabilitazione post-operatoria e alla traumatologia minore Qui saranno concentrate tutte le attività rivolte esclusivamente ai residenti del Valdarno quelle ovviamente riabilitative anche quelle che oggi vengono svolte dentro l'ospedale Questo serve a fare due cose a ottimizzare meglio i percorsi e nello stesso tempo a migliorare gli spazi e l'utilizzo degli spazi all'interno dell'ospedale Questo apre la strada a un progetto complessivo di riordino dell'offerta riabilitativa fortemente voluta dalla direzione del CRT che trova l'azienda Toscana Sud-Est non solo all'interno della società ma anche principale sponsor di questa attività Si tratta di un primo passo di un percorso ben più ampio La clinica ha infatti acquisito un nuovo padiglione nelle vicinanze con dimensioni analoghe che entrerà in funzione a luglio Un altro passo avanti in una riqualificazione di questa intera area dove già insistono servizi importanti e dove sappiamo grazie al finanziamento intercettato dal PNRR nascerà anche la futura casa della comunità AB Zero morti sul lavoro una giusta riforma fiscale un nuovo modello sociale di fare impresa Questi sono i tre obiettivi che CGL e Will hanno messo al centro dello sciopero generale nazionale dell'11 aprile 4 ore di braccia incrociata e che interesseranno tutti i lavoratori dei settori privati Per la mattina dello sciopero in programma la riunione delle assemblee congiunte CGL e Will Toscana presso l'auditorium Malduomo a Firenze Ad Arezzo invece i lavoratori terranno un presidio in piazza Sai Jacopo dalle 15 alle 17 E adesso l'economia torna a Vinitaly aziende e consorsi aretini presenti a Verona Saranno 27 le aziende vinicole e aretine che parteciperanno alla 56esima edizione di Vinitaly che si terrà dal 14 al 17 aprile anche se il mercato sta registrando un calo Le esportazioni della provincia di Arezzo che si conferma con quasi 6.000 ettari di superficie vitate al quarto posto nella classifica regionale ha registrato nel 2023 un valore complessivo di 105 milioni di euro una contrazione dell'8,3% rispetto al 2022 Il primo mercato di destinazione del vino made in Arezzo si conferma quello tedesco con 46 milioni di euro è però in flessione anche quest'ultimo del 2,3% segue la Francia con 13 milioni ma con un sostanzioso calo dell'8,3% Terzo paese per esportazione gli Stati Uniti con 8 milioni di euro e un calo addirittura del 44% Anche l'andamento nazionale dell'export per il 2023 evidenzia una flessione in volumi e fatturato di circa l'1% L'Italia resta comunque seconda dopo la Francia con quasi 8 miliardi di euro Un milione di firme questo è l'obiettivo per dire basta ai cibi importati e camuffati come italiani e difendere la salute dei cittadini al reddito degli agricoltori estendendo l'obbligo dell'indicazione di origine in etichetta a tutti i prodotti alimentari in commercio nell'Unione Europea Parte così dal Brennero e arriva anche ad Arezzo la grande mobilitazione della Col di Retti per una proposta di legge europea d'iniziativa popolare sulla trasparenza di quanto portiamo in tavola Una proposta sostenuta da 10 mila agricoltori in questi due giorni di mobilitazione alla Brennero presenti anche agricoltori della Toscana e di Arezzo una delegazione infatti è partita guidata dal presidente Castellucci e dalla direttore Betti la campagna potrà essere sostenuta firmando in tutti i mercati contadini di campagna minchene agli uffici col diretti Ed è stata invece la Casa dell'Energia di Arezzo lo scorso 3 aprile ad ospitare il primo incontro partecipativo volto alla costruzione del piano per la città verde 2030 nell'ambito dell'iniziativa europea Green City Accord Parto per la città verde e del progetto Life Green Me 5 di cui il comune di Arezzo è partner beneficiario Arezzo è infatti tra le prime città in Italia ad aver aderito nella 2021 all'accordo un patto politico per rendere le città europee più verdi, più pulite e più sane impegnandosi ad affrontare 5 grandi sfide ambientali legate a 5 grandi temi aria, acqua, natura, biodiversità, rifiuti economia circolare e rumore e ad Arezzo è confermato invece il servizio di minibus con alcune variazioni alle fermate al percorso e appunto il minibus turistico già attivo Arezzo Grand Tour il minibus rosso con il quale è possibile fare il giro della città andrà avanti fino all'epifania continua quindi il contratto che lega il comune di Arezzo all'azienda di noleggi del minibus che ha sede a Gubbio e che si occupa di trasporto di persone a fini turistici con mezzi elettrici il mezzo è stato autorizzato a circolare nelle strade del centro storico di Arezzo nel periodo compreso tra il primo fine settimana del mese di marzo e comunque entro il primo fine settimana precedente la Pasqua fino appunto al periodo immediatamente successivo all'epifania la prima sperimentazione era avvenuta a Natale 2023 poi la scorsa Pasqua e adesso il prolungamento per quanto riguarda il percorso era stata la Polizia Municipale a rilevare alcune criticità relativamente alle fermate di Piazza della Repubblica Piazza San Francesco e Via Guido Monaco e Via Margaritone dall'ente pubblico è arrivata quindi la richiesta di spostare la fermata di Piazza della Repubblica nell'area limitrofa di Via Spinello la fermata dell'Anfiteatro Romano è stata spostata invece in un punto più avanzato su Via Margaritone per tutte le altre fermate per ragioni di sicurezza è stato richiesto che le stesse avessero un'opportuna segnaletica orizzontale e verticale Sabato 13 aprile in programma una passeggiata nella parte alta di Villa Severi alla scoperta delle piante spontanee un'idea della volontaria dello scudo di panna Lucrezia Senzerini che insegnerà a riconoscere tante erbe del territorio e svelerà proprietà e segreti il ritrovo è alle 15 e la passeggiata durerà circa un'ora e mezzo un evento di beneficenza il ricavato sarà interamente devoluto al rifugio scudo di Pà questa mattina invece è stata presentata alla Sala dei Grandi della provincia di Arezzo la terza edizione del progetto Io ti rispetto iniziativa patrocinata dalla provincia e dal comitato regionale toscano del CONI è promossa dall'associazione dei familiari delle vittime dell'ISEL con il sostegno della delegazione provinciale FIGICI di Arezzo del Moponte Santa Firmina e del Panatron Club di Arezzo e Valdarno Superiore Io ti rispetto è un progetto di educazione civico-sportiva che si propone di comunicare i valori dello sport integrando e completando il percorso didattico la terza edizione vede l'adesione al progetto anche dell'ITIS Galilei di Arezzo che si aggiunge agli altri istituti già coinvolti nelle precedenti edizioni Incontri si svolgeranno il 15 aprile, il 6, l'8, il 13 e il 14 maggio I canottieri di Firenze sono invece arrivati in Valdarno per il monitoraggio del fiume è più selvaggio un po' più di acqua mossa per noi è più divertente rispetto all'Arno a Firenze è piatto piatto qui ci si diverte di più poi è una pace dei sensi scendere senza nemmeno un rumore dell'autostrada è veramente bello, piacevole prosegue la discesa dell'Arno dalla sorgente alla foce un'iniziativa per celebrare i 90 anni dell'associazione canottieri comunali Firenze ma anche per monitorare il fiume attraverso gli occhi di chi lo percorre in canoa ben venga chi porta avanti un discorso di questo tipo ben venga chi ama la natura e che la vuol vivere e vuole che anche gli altri la vivano appieno sportivi ed appassionati adesso hanno percorso i 10 chilometri di fiume Arno che separano la diga di Levane dal ponte Pertini nel comune di San Giovanni Valdarno per noi Consorzio di Bonifica un'occasione per vedere il fiume da un altro punto di vista direttamente dalle sue acque un'occasione per vedere lo stato di salute del fiume la presenza di rifiuti, di plastiche se occorrono interventi nuovi, straordinari per la messa in sicurezza delle sue sponde o interventi puntuali di manutenzione ordinaria quindi un momento importante per il Consorzio per stabilire lo stato di salute di questo importante corso d'acqua della Toscana e per anche accogliere il punto di vista dei connottieri che appunto lo vivono dal suo interno L'Arno nel primo tratto percorso dalla Sorgente sino a San Giovanni code dunque di ottima salute poche plastiche, buona cura delle sponde acque piuttosto pulite ed ambienti incantevoli questo primo tratto che non avevamo sostanzialmente mai fatto è molto bello, incontaminato quindi è un percorso sicuramente da sviluppare con le canoe, con il rafting però è un percorso molto bello penso molto più attraente che non la parte a valle dove gli insediamenti industriali le abitazioni eccetera alterano quello che era il paesaggio naturale quindi questo sicuramente è uno dei tratti più belli Adesso lo sport il calcio all'Arezzo ieri in casa della Lucchese è finita 1-1 un pari complessivamente giusto che lascia Iamaranto in piena zona playoff Arezzo calcio femminile Freedom insomma valevole per la 24esima giornata di campionato di Serie B in programma domenica 14 aprile si giocherà allo stadio comunale a Scani Onesi di Tavernuzze con calcio all'inizio alle 15 uno stadio precisa la società scelto per consentire a tutti i tifosi di supportare Iamaranto dalla tribuna lo stadio Onesi infatti possiede l'autorizzazione ad ospitare partite di campionati nazionali e consente così di poter giocare una gara a porte aperte Passiamo all'Atletica 6 ori e 2 bronzi per l'Alga Atletica Arezzo tra la Coppa Toscana Ragazzi e i campionati di società cadetti le due manifestazioni interprovinciali giunte alla seconda giornata sono andate in scena allo stadio di Atletica di Grosseto ed hanno proposto un confronto tra centinaia di giovani atleti e atlete in rappresentanza di società artine, grossetane e senesi tra i grandi protagonisti della gara è rientrato Filippo Misuri 2009 che nella categoria cadetti è riuscito a salire sul primo gradino del podio nel salto in alto con 1.83 metri e nel salto triplo con 13.40 metri registrando in entrambi i casi il proprio record personale centrando la qualificazione per i campionati italiani di categoria questa per stasera era l'ultima notizia vi ringrazio per l'attenzione arrivederci